Questo squisito piatto è abbastanza facile da preparare, vi richiederà tra tutto 30 minuti per la sua preparazione. Serve un pezzetto di burro, diciamo 30 grammi, sono più che sufficienti. Poi ci vogliono 150 grammi di un formaggio che fonda. Va benissimo la fontina, se volete un formaggio più delicato anche Elemental, oppure quelle fettine di formaggio che fondono. 150 grammi. Poi servono dei piselli già sgusciati pronti. Se prendiamo questi surgelati che vanno benissimo, 250 grammi già così di prodotto. Due uova intere, eccole qui, più un pezzetto di dado, forse uno sarà troppo, ne metterò una metà. Serve un'abbondante manciata di grana grattugiato, naturalmente del sale e a questo punto io voglio dirvi una cosa questa sera. Credo di aver contribuito al successo di riso gallo blonde. Sapete il famoso riso che non scuoce, del quale vi ho parlato in questi quattro anni ampiamente. Ma riso gallo non è soltanto blonde. Riso gallo è completo, ha una linea infinita di risi. Ci sono ad esempio quelli che gli esperti chiamano bianchi e sono dei risi specifici. E' proprio di loro che io comincio a parlarvi questa sera. E comincio con riso, gran gallo, arborio. Eccolo qui. Arborio è fantastico. Intanto vi dico che è specifico proprio per risotti, timballi, perché il suo chicco è corposo, morbido. Pertanto rimane molto mantecato all'esterno e sodo all'interno. Specialissimo per risotti e come vi ho detto timballi, come faccio proprio qui stasera. Ma vi voglio dire una curiosità molto carina. L'arborio è una derivazione del famoso vialone. Arborio è una piccola località in provincia di Vercelli. Un tempo questo riso era solo vialone. Dal 1946 è diventato l'arborio. L'arborio pertanto è un riso giovanissimo. Allora ricordate, quando fate la spesa sul banco del vostro abituale fornitore, cercate questa bellissima scatola bianca e cominciate subito a fare amicizia con riso, gran gallo, arborio. Quanto ne uso questa sera? 400 grammi, che vado subito subito a far cuocere e scolo al dente nell'acqua che adesso quando pongo la casseruola su una piastra bolle. Allora 400 grammi di riso che cuoccio e scolo al dente. Scolato poi il riso lo mettiamo in una terrina, vedete, capace e lo condiamo con quasi tutto il pezzetto di burro. Poi mettiamo anche il grana grattugiato e prima di, anzi mescoliamo, Intanto vi mostro qui alla mia sinistra, ci sono i pisellini che abbiamo fatto rosolare per un po' di minuti nel rimanente pezzetto di burro, unendo anche il piccolo pezzetto di dado, metà. Sono rosolati, vedete, i saporiti dal dado. Adesso unisco anche loro al riso. Vi ricordo allora che il riso, una volta scolato, si condisce con il burro, il grana, poi i pisellini, la fontina a dadini, poi rompiamo le due uova, le sbattiamo un attimo, mi auguro che riusciate a vedermi, e anche le uova, una volta sbattute, andranno, ecco qua, bello anche questo, magari un pizzichino di sale, poi uniamo. Allora si sbattono le uova, lasciamo che il riso si intiepidisca un attimo, e a questo punto versiamo anche le uova, però lo farei in un secondo tempo, perché altrimenti il riso è ancora abbastanza caldo, mi fa le farfalline. Ora mescolo benissimo questi ingredienti, do tempo al formaggio di amalgamarsi con il riso, i piselli e il rimanente condimento, unisco le uova e con il composto ottenuto riempiamo degli stampini, ma lo facciamo insieme. Poi potete vedere voi, o riempiamo dei contenitorini piccoli così individuali, oppure volendo potete anche prendere uno stampo grande, riempirlo e pareggiare, poi magari in una pirofila, come meglio preferite, o porzioncine così individuali, riempiti bene, spianati, oppure una pirofila che poi possa venire anche in tavola. Il forno deve essere acceso a 180 gradi e i timballini dovranno rimanere in forno, direi per un 15 minuti, sono più che sufficienti. Ed ecco finito il nostro piatto, dunque una precisazione con il quantitativo di ingredienti che vi ho dettato, vengono molto più di 4, vengono almeno 8 timballini, regolatevi. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio soprattutto Riso Gallo, che ci dà appuntamento la prossima settimana con un altro riso favoloso, del quale io vi parlerò ampiamente. Sono molto contenta di aver potuto variare così tutta la linea di Riso Gallo, che vedrete quanti sono. Dunque invece il mio appuntamento, visto che oggi è venerdì, è per lunedì, ma non lunedì a pranzo, perché noi lunedì cederemo lo spazio ancora alle Olimpiadi della Neve. Poi vi aspetto invece lunedì sera con sale e pepe e il nostro appuntamento a pranzo sarà naturalmente per martedì, ma ne parliamo lunedì. Adesso io vi auguro un buon fine settimana, mi raccomando fate i bravi, pensateci e rimpiangeteci anche un po'. Prima di cedere la linea a Carla e di salutarla affettuosamente come ho fatto all'inizio, ringrazio, visto che è venerdì, tutta la mia favolosa equipe. Ciao!